La pittura inconfondibile di Amedeo Modigliani parla francese ma anche labronico. I suoi inconfondibili ritratti, dai colli lunghi e gli occhi a volte vacui, le figure affusolate, sono infatti nati nel fermento parigino di Montmartre all'inizio del secolo breve, ma hanno conservato uno stile unico, un tratto distintivo, come fosse geneticamente determinato, che a un secolo dalla sua scomparsa viene celebrato ora nella sua città natale, Livorno. Si tratta di una importantissima mostra anche perché avviene a Livorno, città natale di Amedeo Modigliani, a cent'anni esatti dalla morte del pittore che è diventato poi famoso al momento in cui ha raggiunto Parigi, capitale del XX secolo. Sino al 16 febbraio 2020 il Museo della città di Livorno ospiterà la mostra Modigliani e l'avventura di Montparnasse. Il progetto espositivo, promosso dal Comune insieme all'Istituto Restellini di Parigi, con la partecipazione della Fondazione Livorno, propone 26 capolavori dell'artista, quasi sconosciuti al pubblico, insieme alle opere dei collezionisti Netter e Alexandre, che hanno accompagnato e sostenuto Modigliani lungo la sua breve vita. Qui c'è una collezione che contiene i principali artisti che hanno frequentato, conosciuto e vissuto a Montparnasse. Dunque, qui avete la collezione dei fondatori della scuola di Parigi. Parigi dunque, che fece di Modigliani un artista apprezzato. Non a lungo, purtroppo, il Livornese aveva infatti solo 35 anni quando morì di tubercolosi nel 1920.